Tre partite a un punto, il campionato nel Montevarchi non è iniziato nella maniera migliore visto che nel conto è opportuno metterci anche le serieti subite che fanno da contraltare allo zero in fatto di realizzazioni. Numeri da paura per una squadra che ancora deve ritrovarsi e che alla prima difficoltà si scioglie come neve al sole. Se contro l'Olbia si erano visti sprazzi di ripresa lontano dal Brilliperi, la fortuna sembra voltare le spalle ai ragazzi di Malotti. Poi il primo intoppo in questo Montevarchi pare sbarrire le sue coordinate. Nella filosofia della società le difficoltà forse erano state messe in conto ma il fattore che preoccupa è la mancanza di una reazione nei momenti critici. Pesano le essenze, pesano gli infortuni e il derby con il Siena di dopodomani non si presenta sotto i migliori auspici. Ai Rosso-Blu necessita fare quadrato e cercare di tenere unita la barra per superare questo non facile momento. Grazie. Grazie.